Buongiorno, buona settimana a tutti voi e grazie per l'amore con il quale ci seguite sempre. Oggi anticipiamo di un giorno, un anniversario, 25 anni con Don Peppe e Diana in Paradiso. Perché dire senza Peppe e Diana sarebbe riduttivo. Quella morte è servita a condannare a morte anche la camorra. E noi oggi apriamo con un prete che lo conosceva molto bene, Don Maurizio Patriciello. Grazie di essere tornato, ti stiamo facendo fare Napoli-Roma, Roma-Napoli in continuazione. Tu ci hai fatto un viaggio con Don Peppe e Diana, vero? Sì. Siete andati a Lourdes insieme. Siamo andati a Lourdes insieme l'anno prima, sì. Che cosa, una notte intera in treno a parlare, a pregare, a raccontarvi. Cosa ti resta umanamente di lui? Io ho conosciuto Peppino, lui è un sacerdote e mi piace ricordarlo così. Io non ho mai pensato che Peppino fosse un eroe, così come non lo è stato Don Pino Puglisi. Sì, queste persone sono state semplicemente delle persone vere, uomini, magari galantuomini. Non potevano abbassare lo sguardo davanti a quello che c'era, non potevano far finta di non vedere. Magari noi per un motivo o per un altro qualche volta abbiamo fatto, non dico finta di non vedere, ma i problemi erano più grandi di noi. Loro li hanno affrontati, ecco, non hanno abbassato lo sguardo. Io ho dato per scontato, chiedo perdono a casa, ma sono straconvinta che tutti sappiano chi fosse Don Peppe Diana. Don Peppe Diana, mancava qualche minuto alle 7.30 esattamente, stava per dir messa nella sua parrocchia di San Nicola di Bari a Casa di Principe, viene trucidato, trucidato in sacristia, o meglio, mentre sta per arrivare all'altare con cinque colpi di pistola. Tutti arrivano a segno, tutti a segno, per uccidere questo prete che aveva fatto soltanto una scelta, quella di essere un vero cristiano, che amava la verità, e un buon cittadino. È un vero casalese. Io ho scritto nell'articolo che uscirà domani su Avvenire, che la prima cosa che i camorristi debbono restituire al popolo di Casale è il nome. Perché loro si sono appropriati di questo nome, il clan dei casalesi. I casalesi sono le persone come Peppino Diana e migliaia di persone per bene che abitano a Casal di Principe, in provincia di Caserta, di Ocesi di Aversa. Quindi la prima cosa che debbono restituire è il nome. Questo è bellissimo. Lui è un vero casalese. Il casalese non può essere associato a Francesco Schiavone e compagno. No, i camorristi sono coloro che hanno insozzato, sporcato questo nome. Loro sono stati la rovina della nostra terra e purtroppo hanno sempre imbrogliato, hanno sempre barato, perché ci tenevano a far passare un'immagine in un certo qual modo positiva, no? Soprattutto tra le persone più ignoranti. Loro ci tengono tanto. Loro non hanno mai perdonato a Peppe, ma a tutti i sacerdoti. Ma noi siamo dalla vostra parte. Chiedete. Ricordo che tanti anni fa, quando io arrivai al Parco Verde, ci fu un problema, ci fu un problema. A un certo punto qualcuno venne a prendermi in macchina. Io caddi, diciamo, nel tranello. Non mi accorsi che era un tranello. Salì su questa macchina e mi portò in un posto abbastanza riservato. E in questo luogo venne un signore, si avvicinò e mi disse, intanto mi bloccò in macchina, non mi fece scendere. Io capì che ero caduto in un tranello. E poi mi disse, ma di qualsiasi cosa tu hai bisogno, vieni a casa mia. Capisci? Quindi non ci sono problemi. È inutile che vai dai carabinieri, che scrivi sui giornali. Vieni a casa mia, non ci sono problemi. Allora l'ho guardato e gli ho detto, a casa tua, e tu chi sei? Chi ti conosce? Loro vogliono questo. Loro stanno dalla tua parte, per cui dovete fare la festa del paese. Ma ci sono loro che ti pagano le spese. Loro vorrebbero questo. E quando la persona dice, no grazie, non abbiamo bisogno di niente. Cioè padre, lei di che cosa ha bisogno? No, di niente, di niente. Abbiamo bisogno però che voi possiate per davvero convertirvi. Perché il problema nostro è questo. Non è solamente la denuncia. Troppo poco è la denuncia. No, Peppino non è stato solamente il profeta che ha denunciato. Peppino è uno che ha cominciato veramente con i giovani a lavorare, a cambiare qualche cosa, a costruire un mondo nuovo. E allora quando si vedono in questo modo qua, si sentono un po' allo scoperto. Allora che cosa si fa? O si ammazza con la pistola, Peppino e Don Pino Puglisi sono stati uccisi con la pistola, o si ammazza con la calunnia. E qua ti fermo un momento, perché ci andremo piano piano. Perché quello che è successo a Don Peppe Diana, che è un po' anche ritardato, se vogliamo, come dire, anche l'analisi attenta da parte della Chiesa, è stato questo... Chiamalo tranello, se vuoi. Questo gioco sporco in cui siamo caduti anche noi giornalisti. Ci andiamo per gradi. Per gradi perché? Perché noi per ricordare Don Peppe Diana come TV 2000, questa sera, in seconda serata alle 22.45, trasmetteremo il documentario Don Peppe Diana, martire del riscatto del nostro Luigi Ferraiolo. Vi proponiamo un brano. Questa è l'intervista a Raffaele Cantone, presidente dell'autority anticorruzione. Sentite, era un magistrato giovanissimo. Allora, ascoltate un attimo la sua testimonianza. I funerali Don Peppe Diana furono in quel momento in una zona nella quale il clan dei Casalesi era assolutamente gemo. Stiamo parlando all'inizio degli anni 90. Don Peppe, la situazione di Casale era ancora sotto il controllo, non c'era stato neanche Spartacus. I funerali però furono un momento eccezionale. Vennero da tutta l'Italia, ci furono parlamentari, ci furono... Cioè, sì, veramente ci fu un'accensione di luci su Casale che non c'era mai stata. Perché il vero problema dei Casalesi è che fino a poco tempo, fino a poco tempo anche dopo, Spartacus venivano considerati un piccolo clan di provincia e non certo, diciamo, un clan che poi abbiamo capito cosa fosse. Stiamo parlando del 1994. Quelle lenzuola appesa in segno di protesta che noi oggi siamo abituati a vedere nei luoghi in cui Camorra, Andrangheta, mafia hanno o sperano di avere il sopravvento sono un'abitudine. Allora era qualcosa di unico, di straordinario. uomini, donne e uomini di chiesa anche decisero di arrivare a Casal di Principe. Don Maurizio, tu fossi tra i primi ad accogliere in quella chiesa e non ti aspettavi neanche che il corpo fosse ancora lì. No, io sono arrivato quasi subito per certi motivi. Sono arrivato, c'era la polizia, c'era ancora tanto silenzio intorno alla chiesa. perché quando si è sparsa la voce che Don Peppino era stato ucciso la gente di Casale è veramente andata in panico e non era mai successo. La Camorra ci ha sempre tenuto a presentare questo volto buono, no? Il Camorrista è un valantuomo che non uccide le donne, non uccide i bambini, non uccide i predi. Stavolta invece mostrava il suo volto vigliacco, diciamoci la verità. La Camorra è veramente una montagna di mondizie, insomma, il Camorrista è un vigliacco che... Il momento in cui a Casale arriva, si sparge la voce che il pargo Don Peppino, che poi Don Peppino è di Casale, è nato a Casale, quindi è stato ucciso in chiesa. Questa cosa proprio li ha distrutti i casalesi, per cui nelle prime ore c'è stato un po' di silenzio. Io sono arrivato quasi subito e entrando per la verità, quando la polizia mi ha fatto entrare e pensavo che il corpo di Peppino già fosse stato portato via. Invece lui stava ancora là, entrando a destra della chiesa, ed è stato un momento terribile. Sull'altare c'era il vescovo di allora, Lorenzo Chiarinelli, che salutiamo, una persona veramente carissima, un vescovo che abbiamo avuto, che ricordiamo sempre con affetto e con tanta nostalgia. e ricordo che con qualche confratello, senza parole, proprio esterefatti, qualche cosa di incredibile, e l'unica cosa che ci ha detto, preghiamo, preghiamo, ci siamo messi intorno all'altare, così abbiamo passato la testa e ci siamo messi a pregare mentre la polizia ancora faceva il suo lavoro in fondo alla chiesa. Don Maurizio, ma per la camorra, perché era così pericoloso quest'uomo? Me lo spieghi? Perché era un uomo, perché era un uomo. Alla camorra fanno paura gli uomini, cioè gli uomini che non si piegano. Guarda, a me non è mai piaciuto e questo ci tengo a dirlo nell'articolo che uscirà domani su Avvenire. Gli eroi a me non piacciono, per la verità non piacciono neanche i santi martiri, perché dietro ogni martire si nasconde un assassino. A me piacciono i santi di ogni giorno, come la Maria sotto la croce, i nostri santi, le nostre sante mamme, le persone normali. Ecco, Peppino era un prete e ha insegnato ai preti italiani e forse ai preti di tutto il mondo a fare i preti, ad essere preti. Come dice Papa Francesco, in questi anni ce lo sta ripetendo in tutti i modi. Per favore, la Chiesa è celebrazione della Messa e noi dobbiamo celebrarla sempre e sempre bene nel migliore dei modi, perché la Messa è la fonte da cui arriva la nostra forza. Non ci mancherebbe altro. La Chiesa è la parola di Dio e dobbiamo immergerci in questo mare profondissimo dove ci arriva ogni ricchezza. la fede è la carità e quindi il nostro essere con i fratelli. Ma la fede è anche verità. La fede non è... Un uomo di Chiesa, un uomo di fede, non può assolutamente inghinarsi davanti a un delinquente, a un camorrista, ma chi so questa gente. Poi Peppino li conosceva. Anche se ci parlano la festa del santo del paese. Ma poi Lucia Peppino li conosceva benissimo. Erano stati a scuola insieme, erano vicini di casa, in un paese come Casale, si conoscono tutti. Ora, a un certo punto, le strade si dividono. Peppe diventa un prete che vuole salvare il suo popolo. Per amore del mio popolo non tacerò e non attaciuto. E gli altri invece erano le persone che questo popolo volevano affossare, volevano ingannare. Questo popolo che è stato martoriato in tutti i modi. Veramente, guarda, il clan dei Casalesi, ingiustamente chiamato clan dei Casalesi, è stato uno dei clan più sanguinari della storia della Camorra e delle mafie. Peppe questo l'aveva capito prima di noi. Noi ancora, come ha detto Cantone, non è un caso che Cantone è della diocese di Aversa. Guarda, siamo tutti quanti della diocese di Aversa. Io, Peppino, Cantone, siamo della stessa diocese di Aversa. E non è un caso quello che ha detto. Ancora veniva considerato un clan di periferia, di serie B, e invece proprio stava arrivando ai vertici. Per amore del mio popolo non tacerò è questa lettera che la Forania di Aversa, che moltissimi sacerdoti firmano con Don Peppe Diana. Parole di Saia, ma in realtà riprendeva una vecchia lettera, non so se della conferenza episcopale Campana, che però era passata un po' sotto silenzio. Senza quella morte, questo grido per amore del mio popolo non tacerò, avrebbe avuto questa diffusione che ha poi avuto in seguito? Guarda, il nostro vescovo di oggi, Angelo Spinillo, una persona veramente cara, ha scritto la lettera pastorale per i 25 anni della morte di Peppino ed è proprio questo. Peppino riprende questo documento che era passato quasi inosservato e lui dice questo purtroppo è uno dei nostri problemi perché si scrive, si fa, ci si pronuncia, però poi la gente magari non sa, i documenti passano un po' con il dimenticatoio. Peppino rispolvera questo documento dell'82 e nel Natale del 91 in tutte le chiese di Casal di Principe della Forania viene data all'uscita della chiesa questa lettera per amore del mio popolo non tacerò. E il vescovo Spinillo dice proprio così e io sono convinto che se Peppino non fosse stato ucciso forse anche questo documento sarebbe passato nel dimenticatoio. Questo per quanto ci domandiamo il perché purtroppo di certe orribili situazioni che si vengono a creare. Don Marizzo tu hai detto una cosa la camorra uccide con la pistola con le armi o con la calugna e non avete idea di cosa si racconterà di lì a poco di Don Peppe Diana per evitare di farne inconsapevolmente un eroe. Don Peppe ha le donne Don Peppe ha un pedofilo e noi giornalisti una parte di noi ci cade perché qualche giorno dopo i titoli di alcuni giornali sono proprio quelli trovato a letto con due donne Don Peppe Diana o ancora di peggio. Ascoltiamo la testimonianza del sindaco di Casal di Principe sempre ancora da questo documentario che noi proporremo questa sera alle 22.45 a firma di Luigi Ferragliuolo. La Camorra mette in atto la sua strategia di delegittimazione che va avanti in una fase sempre crescente con i titoli dei giornali si sa ma soprattutto col chiacchiericcio un sistema che la Camorra ha usato spesso avendo i suoi rappresentanti nel bar dal parrucchiere dal barbiere tu stai lì a farti la barba e uno a fianco a te che dice chi lo prepe non si sa viss lo faccio solo non dice nulla però è tarlo. io ritengo che sia una strategia razionalmente messa in campo da parte della Camorra organizzata e ci sono cascati molti in questo nei primi anni successivi alla sua morte eravamo pochi intimi a cercare di mantenere vivere le morte io ricordo che da solo andava ad attaccarmi arrivano i festi smettetela con le chiacchi diamoci un taglio evitiamo le chiacchiere uccidono perché questa è una strategia criminale nel vero senso della parola ma guarda allora Peppino è stato ucciso due volte è stato ucciso la prima volta con la pistola in quel modo così vigliacco e poi subito dopo è cominciata la macchina del fango per cui qualche giornale addirittura ha titolato proprio a caratteri cubitali Don Peppino Diana è un camorrista tu pensa la gente ma anche noi anche i seminaristi per esempio i predi più giovani che Don Peppino è un camorrista dove sta la verità adesso qual è la verità per cui si rimase per davvero un poco sbalordita ragione Renato quando dice attualmente è ancora il sindaco di Casale Renato salutiamo tra l'altro devo dire che lo avevamo invitato con te ci ha detto io ho uno studio da portare avanti a un medico e io non posso lasciare i soldi i miei pazienti siamo grati per cui la gente rimase un poco esterefatta diciamo così confusa dove sta la verità e la verità grazie a Dio è venuta a galla sempre più bella sempre per quello che era e adesso possiamo dire chi era veramente Don Peppino Diana però la macchina del fango è una delle caratteristiche purtroppo non solo della camorra ma di tutte le persone piccole quando una persona non ce la fa a competere con un altro quando vede che l'altro la supera in qualche modo che veramente anziché dare quello che può quello che deve perché poi dal punto di vista cristiano il Signore ad ognuno di noi chiede quello che può non ci chiede mai qualcosa in più io sono stato a un incontro tra Agnese Moro e Adriana Farando è una cosa bellissima veramente quelle due donne una cosa stupenda ex terrorista ex brigatista una e chiaramente la figlia di Moro l'altra a un certo punto Agnese Moro ha detto una frase che mi è rimasta talmente impressa ha detto così io so che quando Gesù mi dice una cosa la dice perché mi vuole far felice e se lui mi dice perdona io ci ho pensato sopra 30 anni e poi le mani di queste due donne si sono sfiorate guarda un gesto stupendo e questo è il cristianesimo io mi rendo conto che mi rendo conto che veramente siamo al cuore non è facile diciamoci la verità però questo è il cuore del cristianesimo e allora quando una persona anziché andare per la sua strada e seminare semi di speranza ovunque si trova nel treno alla stazione adesso qua mentre altri fratelli ci stanno vedendo sorelle ci stanno vedendo in televisione ma poi stasera in parrocchio magari a celebrare la messa con dieci vecchiette ma ovunque no anziché fare questo anziché dare il proprio contributo cercano di sminuire il contributo degli altri dal punto di vista morale a ragione Papa Francesco che questo è un omicidio è un assassino proprio insomma il terrorismo delle chiacchiere logicamente Peppino è stato molto di più Peppino diceva nella sua lettera la camorra è una forma di terrorismo è stato il primo a parlare in questi termini quando ci chiediamo qual è la sua eredità ricordiamoci anche le sue parole assolutamente da riprendere da rileggere perché è un uomo che ce l'aveva visto giusto in tempi in cui come ha detto Cantone quello sembrava essere un problema marginale quello della camorra dei casalesi e devono riprendersi il loro nome fieramente Don Maurizio lo sai che fai sempre bene le tue parole fanno bene al nostro cuore ogni volta che vieni grazie non eroi ma uomini per bene Don Peppediano grazie di cuore a Don Maurizio Patriciello